Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ospiti presenti a questo premio così importante di cui io vado molto fiero, Città di Cultura Salon 2020 e purtroppo mi dispiace non poter essere lì con voi per poterlo ritirare fisicamente, ma lì avete appena ascoltato due miei carissimi amici del cuore, Nicola Campiotti, Enzo Muscia, che mi hanno coinvolto in questa bellissima e straordinaria avventura di racconto popolare, il racconto di quest'uomo che avete lì in carne ed ossa, che ha saputo dimostrare al mondo quanto, diciamo, è anche abbastanza semplice dedicarsi agli altri. Forse non è per tutti. Io non avrei avuto il tuo coraggio, Enzo, di fare quello che hai fatto, probabilmente non avrei avuto il tuo coraggio, ci vuole grande coraggio. Sono gesti apparentemente, come dicevo, semplici ma molto complessi poi nell'atto in cui si devono mettere in pratica. Tu hai dovuto rinunciare a molto, ma mai nessuna delle tue rinunce ha avuto un peso specifico nella tua vita, se non quello particolare dell'amore per il tuo lavoro, dell'amore per la tua famiglia stessa, che hai in qualche misura dovuto sacrificare nei rapporti, dell'amore per il tuo lavoro, per i tuoi amici, per i tuoi colleghi, ma diciamo anche per l'Italia, perché hai fatto un gesto straordinario. Tu hai fatto quello che dovrebbe fare uno Stato, cioè non far perdere la dignità alle persone e quindi il loro lavoro. Per quanto riguarda te, Nicola, ti sono grato per avermi raccontato questa storia. Io ricordo ancora le prime volte quando ci siamo incontrati e mi raccontavi di quest'uomo, di questo ragazzo, di questa avventura, di questa storia così bella e straordinaria. Me ne sono appassionato subito e tu lo sai, non sono parole di circostanza, ma sono cose che tra noi sono accadute immediatamente. La nostra sintonia per Enzo e per la sua storia è stata immediata e quindi per questo ti ringrazio pubblicamente davanti a tutto il pubblico di Saronno. Ringrazio gli organizzatori di questo evento, ringrazio tutta l'organizzazione del premio Cultura Saronno 2020 e mi auguro di poter tornare presto. Mi trovo in Calabria in questo momento per raccontare un'altra storia. Io vi ringrazio ancora, spero di vedervi presto, di abbracciarvi presto e auguriamoci tutti che tutto questo possa finire, tutto questo momento così particolare, questa pandemia, questo contagio che ci affligge ormai da troppo tempo. Teniamo duro, manteniamo le regole, la sicurezza, le mascherine e andiamo avanti così. Grazie Saronno, grazie Nicola, grazie Enzo, grazie a tutti voi. A prestissimo. Ciao.